Rapporti tra politica, imprenditoria e camorra nel comune di Pago Vallo Lauro. 11 persone rinviate a giudizio, 8 coinvolti nell'operazione scattata nel dicembre scorso e 3 indagati per i quali non era stata accolta la misura cautelare pur avendone la DDA richiesto il rinvio. Il giudice per l'udienza preliminare Francesco De Falco Giannone ha rinviato a giudizio tutti gli imputati finiti nell'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli coordinata dal Pubblico Ministero Francesco Soviero. Un'inchiesta che avrebbe messo a nudo il sistema di controllo delle organizzazioni criminali attive nella zona sulle scelte e decisioni dell'ente comunale durante il mandato di Giuseppe Corcione da sei mesi in carcere, prima a Bellizzi, ora a Terni. Per l'ex sindaco di Pago Vallo Lauro intanto è stata richiesta l'attenuazione della misura cautelare dal carcere agli arresti domiciliari. Gli imputati, ex amministratori e tecnici del Comune Irpino andranno a giudizio per tutte le contestazioni compresa l'aggravante del metodo mafioso. Il processo inizierà il 29 settembre davanti al Tribunale collegiale di Avellino. Le accuse vanno dall'abuso di ufficio alla tentata concussione. Un procedimento giudiziario che vedrà anche il coinvolgimento dell'attuale amministrazione comunale di Pago Vallo Lauro che si è costituita parte civile.